160 anni dal primo carro dell'Immacolata. Per solenizzare questo anniversario e il ritorno quest'anno della processione per le vie della città, il parroco Don Josue Lombardo e l'amministrazione comunale di Torre del Greco hanno messo a punto un ricco programma di eventi. Tappeti, concerti, servizi bandistici e luminarie per celebrare una festa che quest'anno si arricchisce di un significato ancora più profondo dopo due anni di stop per la pandemia. Una festa nella quale ogni torrese si riconosce e vive con profondo senso di appartenenza. Questa mattina la presentazione in Basilica, nel giorno in cui ricorre il quarto anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano. Con il sindaco e i rappresentanti dell'amministrazione presentiamo questi eventi particolari per solennizzare i 160 anni del primo carro. Tutti conosciamo la storia, 8 dicembre 1861, la prodigiosa immagine dell'Immacolata viene portata in processione, c'è il Vesuvio minaccia un'eruzione per intercessione dell'Immacolata, si ferma questa eruzione. I torresi nel loro fervore fanno questo voto che avrebbero sempre solennizzato con una particolare processione l'8 dicembre. Quest'anno la processione tornerà? Sicuramente, per come siamo in questo momento. Fughiamo ogni dubbio, già è in costruzione anche il carro sul bozzetto preparato dal professor Raffaele Di Maio per il 2019. Qual è il programma degli eventi che viene presentato questa mattina? C'è una serie di eventi, innanzitutto la costruzione del carro che viene sostenuto dall'amministrazione, poi saranno realizzati in due chiese, nella chiesa di San Filippo in via Salvatornoto e nella chiesa del Rosario a Corso Umberto I saranno realizzati due tappeti, quelli storici. Lo facciamo soprattutto in intento con l'amministrazione per far conoscere questa nostra tradizione alle nuove generazioni. Nella chiesa di San Filippo lo realizzerà il professor Panariello Raffaele, preghiera, è dedicato alla preghiera. Nella chiesa del Rosario un giovane caso, il voto, proprio il voto, un tappeto dedicato al voto. Sono previsti anche alcuni concerti bandistici in Basilica che animeranno la Buonanotta a Maria, la Serenata a Maria con la realizzazione del professor Di Lecce e poi dei servizi bandistici per la città e in più le luminarie in piazza con un'antica luminaria realizzata dalla ditta Cesarano per San Vincenzo Romano. Oggi la presentazione qui in chiesa, proprio oggi che ricorre il quarto anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano, quattro anni fa eravamo tutti a Roma. Sì, proprio a quest'ora ci stavamo preparando alla celebrazione, più o meno a quest'ora il coro del parroco santo intonò in piazza San Pietro quelle note del famoso inno a San Vincenzo e far risuonare quel canto, il nome del parroco santo nel cuore della cristianità, penso che abbia lasciato un segno profondo nella vita di tutti noi. Onorare San Vincenzo per noi deve significare proprio questo, riprendere il suo progetto, il progetto di una chiesa in uscita, come ci dice Papa Francesco, la chiesa che sta in mezzo alla gente. 160 anni al primo caro dell'Immacolata e poi due anni di stop per la pandemia e quindi per l'8 dicembre il caro dell'Immacolata deve uscire. Noi come amministrazione comunale siamo sempre vicini per tutto quello che deve essere un'organizzazione per quanto riguarda riuscire la festa nel miglior modo possibile. Sarà una grande emozione per i torresi quest'anno riapparciare nuovamente per le strade la Vergine Maria. Per me è un qualcosa di eccezionale perché io qua ho sempre vissuto e questa per me è una tradizione, la festa immacolata è un qualcosa per me enorme e quindi rispecchia quello che è il sentimento di tutti i cittadini torresi. Quest'anno abbiamo voluto fare un programma particolare insieme alla tradizionale processione dell'Immacolata abbiamo previsto tutta una serie di eventi collaterali. quindi era doveroso da parte del comune garantire sostegno e affiancare la basilica in quello che è una festa della città.